ciao ragazzi allora come fare un motorino tuning partiamo dalle bandine queste sono bandine normali ora manca qui la scritta si comunque ho fatto un video dove lo spiego e faccio passaggi si taglia questo che è del variatore si taglia questo che è della frizione lo andiamo a smerigliare e levare bordini e andiamo a mettere una griglia sia di qua che dove io le ho recuperate da un altoparlante questo è il lavoro finito almeno possiamo vedere il variatore multivar e la c40 dietro avendo sempre la bandina ciao raga da tigreat